Ciao presepisti, oggi vi mostro la SYL, la SIL, che cos'è e come funziona. La SYL è dotata di un cavetto con spinotto 2.1 ed un cavo di alimentazione. La SYL si rivela utile in tutte quelle situazioni in cui si ha una centralina LED con uscita a 12V, ma si vuole alimentare degli accessori che vanno a 220V. La SYL dispone di 1000W di potenza, ovvero circa 500W ad uscita. Utilizzare la SYL è molto semplice, basterà collegare il cavo di alimentazione ed inserire il cavetto 2.1 all'interno di un'uscita 2.1 della vostra centralina LED. Mi raccomando di inserirlo sulla fase in cui volete che entreranno in funzione gli effetti a 220V collegati ad essa. In questo caso collego i miei effetti sull'alba. A questo punto inserite i vostri effetti a 220V sulla SYL. Una volta che la centralina, nell'esempio che vi sto facendo, passerà dall'alba al giorno, gli effetti collegati alla SYL smetteranno di funzionare, per poi riaccendersi quando la presa di C21 al quale è collegata la SYL sono in funzione.